Silvio Paolucci, al termine della lunga maratona delle primarie, soddisfazione per i dati di partecipazione in Abruzzo? Una larghissima affluenza sia a livello nazionale, perché noi in questa regione contavamo di portare al voto circa 40.000 persone, sono state 55.000, in sostanza il risultato dello scorso anno. Nel turno di ballottaggio si recarono in Abruzzo 55.000 persone, però allora erano le primarie per la premiership, quindi avrebbero dovuto coinvolgere più persone. Da questo si desume che la partecipazione è stata davvero alta. Partecipazione alta che adesso segna l'inizio dell'impegno per la corsa, per le elezioni regionali e per tutti i comuni dove il PD si candida a diventare forza di governo. Sì, innanzitutto è uno strumento che viene opzionato dalle persone, nel momento in cui puoi consentire il cittadino di scegliere, il cittadino si reca a scegliere, dunque noi faremo le primarie anche per la presidenza della regione. E in secondo luogo è certo un buon viatico per il PD, è un partito nazionale che largamente con l'avventura di Renzi e quell'alta partecipazione ha raccolto anche un voto denunciatario che solo qualche mese fa era finito nelle griglie, nelle maglie di grillo. Ecco perché io penso che sia stato da questo punto di vista davvero un grande risultato. Giovani, i rappresentanti del PD delle segretarie provinciali, metà sono donne, un segretario giovane, la ricetta Renzi era già applicata in Abruzzo? Qui sì, un po' per gioco forza, anche per le vicende che avevano interessato il PD abruzzese all'atto della nascita si è stati costretti anche, ma in parte c'è stato davvero un grande lavoro da questo punto di vista, per cui diciamo siamo arrivati prima senza urlarle alcune cose, ma giustamente rinnovando tanto sia a livello di segretari di circolo sia a livello di amministratori e di sindaci. Il compito di Silvio Polucci è di non disperdere l'entusiasmo che si è creato adesso attorno al PD? Se mai di alimentarlo e di proseguire con questo tipo di lavoro, anche grazie a un dato di partecipazione, certamente ottenuto in larga parte per l'impegno di Renzi, che a mio avviso ricongiunge il PD a un voto di opinione che oggi era in forte sofferenza verso il mondo della politica e della sua classe dirigente. Temi regionali, dati preoccupanti per l'occupazione rilanciati dalla CISL, indagine semestrale di Confindustria tra luci ed ombre, bisogna intervenire, bisogna farlo già nel bilancio in discussione in Consiglio regionale? Sì, mi preme però di sottolineare che tra qualche giorno scade la legislatura e noi non abbiamo la data del voto, io credo che sia una situazione unica nella storia del nostro Paese. Il 15 dicembre si conclude la legislatura di cinque anni in questa nostra regione e il Presidente della regione non ha ancora indetto la tornata elettorale, non ha ancora indicato la data del voto. Credo ne abbia paura evidentemente, ma allo stesso tempo non consente un confronto sulle questioni che riguardano la nostra comunità e che partono appunto dall'occupazione, dallo sviluppo, dalla crescita. Situazioni che noi denunciamo a tempo debito, ricordo che quando dicemmo quattro anni fa che i fondi del masterplan, non avendo la firma di Tremonti, erano carta straccia, purtroppo poi quella nostra, tra virgolette, denuncia si è rivelata essere veritiera, arriveranno, se arriveranno appena 200 milioni di quei 6 miliardi. Così come restituire il 40% dei fondi europei è davvero, in questo sestegno, è davvero un caso allarmante, un dato allarmante che sottolinea che anche laddove qualche risorsa ce l'hai per l'occupazione in realtà poi non viene spesa e quelle poche che poi vengono spese anche male. Capitolo alleanze, una situazione magmatica, al centro, lì dove il PD può pescare parecchi voti anche con questi nuovi volti e quindi da dove partirà e fino a dove si allargerà l'alleanza di centrosinistra? Innanzitutto sarà un'alleanza per l'Abruzzo per governare questa regione e che chiaramente avrà uno statura di centrosinistra ma non deve essere identificata come necessariamente di centrosinistra, sarà un'alleanza per l'Abruzzo e per gli abruzzesi e dentro quel progetto che adesso partirà con la sottoscrizione da parte degli alleati del documento che riguarderà sia le primarie sia la bozza di lavoro che abbiamo già in qualche modo redatto e che spendiamo la data del voto per pubblicare, credo che dentro questo doppio binario di programma, di contenuto e di percorso dovremmo stringere attorno a noi un'alleanza molto molto larga, molto più larga del centrosinistra ufficiale. Silvio Paolucci, per concludere, le elezioni si vincono prendendo voti al centro o limitando l'effetto grillo? Tra i cittadini innanzitutto e chiaramente in Abruzzo, lei pone una domanda corretta, si vincono certamente recuperando un pezzo del voto di protesta e allo stesso tempo allargando un'alleanza perché il centrosinistra da solo non ce la farebbe. Grazie a tutti!